Nino! Come ti chiami? Gianni, piacere. Lui è Nino. Ti sei fatto un nuovo amico? Nadaci, commetti in nesa, giginnici una bocca a scuola, sta finendo. Ma se mi fai scattare, mi fai scattare. Che era per questi due sceni. E a me mi sembra sonno, sonno. Te lo sei scordato che già hai rovinato la vita a un altro ragazzo? Ora che fa? C'è per rovinare pure l'amico tuo? C'è il capiaggio a Nuzza, vero? Siete tranquilla, mamma. Su cose che capitano, chissà? No, Ninuzzo, no. Sono scranizi che non devono capitare. Bisogna stare attenti. Dammi! Vi ricassimo ancora in tempo per riparare tutto così. No, no, no! Ma si può sapere che deve essere successo? E lascerò stare! Andate. Oh, io non ti voglio perdere. Manco io. Quello che si fa di nascosto si può fare per cent'anni. ma... Ma con te... Ma con te... Ma con te... Grazie a tutti